Il Gaf porta in scena la nuova commedia dal titolo Un scherz da pret, come sempre al Politeama, e le date sono lunedì 29 febbraio, martedì 1 marzo, mercoledì 2 e lunedì successivo 7 marzo. Come sempre promettiamo un sacco di risate e di divertimento. Quest'anno parleremo di argomenti, che so, corna, tradimenti, classici insomma, ma ci saranno segreti inenarrabili che i nostri protagonisti dovranno nascondere. Ma soprattutto e principalmente parleremo della divisione di una ricca, importante, grossa e succulenta eredità. Però a questo proposito vi voglio far raccontare i tratti principali della storia della commedia da parte dei nostri due protagonisti, due attori che vedrete in scena. Primo, senti, ha detto manù, dai, tocca a manù a discurra, su, di qualcosa a te. E discurri te che discuri come una macchinetta, discuri? No, 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 io mi vergogno, discurra alla svelta, dai, su. Se vergogna, però quando fai ciù, 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 se la michtua non te vergogni, eh? Oh, io, orca, boia. Allora, si bel te che discuri sul del calcio, ma lì sei che si sciolte. Ah, perché quel che dici te se la michtua è importantissimo, eh? Ma, ragia, orca, boia, oh! Io ti faccio mangiare questa bursetta, ti faccio... Lasciati! Ecco, abbiamo fatto la solita figura da stupido. Orca, boia. Beh, diciamo che forse chi vuole vedere la storia, chi vuole capire un pochettino la trama, forse è meglio che viene al Politeama. Quindi, il 29 febbraio, 1, 2 e 7 marzo, il Gav presenta un Scherz da Prete. Il botteghino è già aperto, vi aspettiamo numerosi.